Ieri nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, ci siamo assentati per andare a pranzare al locale vicino La Ritonda, io e mia moglie. L'ora più o meno erano verso le due, meno un quarto. Ci siamo assentati un'ora, un'ora e mezza, entrati poi in hotel, quindi sulle 15, 15 e 30, abbiamo avuto una brutta sorpresa che il nostro hotel è stato centrato da ignoti al momento, ladri che si sono intrufolati al nostro interno e hanno asportato soprattutto valore in moneta, in denaro. Che cosa hanno sostanzialmente danneggiato della struttura per entrare nell'hotel? E' stata forzata completamente la finestra sul lato posteriore della struttura e accedendo poi da quella parte hanno rovistato su tutta la recepzione dell'hotel, senza toccare altro. Poi ci sono spostati sulle stanze dove le hanno girato tutte. Ovviamente la parte fondamentale è l'abitazione, l'uso che abbiamo noi del privato nostro, dove sono stati rovistati da tutte le parti, armaggi, letto, comodini, eccetera, fino ad arrivare alla cassaforte che è stata forzata e prelevato denaro contante. Per quanto riguarda danni e altre, su alcune stanze che avevamo tenuto chiuse a chiave, probabilmente pensando che ci fosse qualcosa all'interno, hanno suon di calci di vento a porta, scassinando le serrature per entrare, ovviamente trovando niente invece su quelle. Ma noi più o meno possiamo dire che siamo solo su valuta, quindi denaro contante, circa siamo su 5 mila Euro come danno che abbiamo patito e possiamo dire che soprattutto sono rimasti invece tutto quello che riguardava mariori, gioielli, carte di credito e quello che effettivamente per questi ladri non è liquidità che può essere poi facilmente, meno facilmente liquiditata. Immediatamente, devo dire, nel giro neanche di poco, segnalato il fatto all'arma locale, sono intervenuti, hanno fatto un primo sottaluogo e è emerso questo, sicuramente persone, professionisti, non sono state rilevate tracce che possono essere talmente così forti, sicuramente persone che si muovono con discrezione, ma soprattutto che sanno quello che vanno a colpire, hanno un modus che è proprio legato all'albergo di toccare la reception per dopo estendersi sui luoghi più comuni legati alle stanze, alle camere. Quello che ci ha dato più ovviamente preoccupazione è che sicuramente io e la mia famiglia siamo stati messi in una situazione quasi di essere controllati e in quest'ora di tempo che abbiamo lasciato l'hotel sono riusciti a accumulare un danno tramite un furto insomma nel nostro rispetto.